Buonasera a tutti e a tutti, benvenuti allo Sherwood Festival, siamo qua dallo studio nel parcheggio nord dello Stadio Uganeo per questo appuntamento con la presentazione del libro di Tiziana Barrillà, Mimica Patosta, Mimmo Lucano il modello di Riace, edito da Fandango Libri. Saluto anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, ricordo anche che questa trasmissione può essere ascoltata in podcast dal sito di Sherwood.it e con Tiziana che saluto andremo a parlare di questo libro, ma soprattutto andremo a parlare di un'esperienza, di un'esperienza come quella di Riace. Il libro di Tiziana, che è una giornalista professionista tra i fondatori della rivista Il Salto, è una biografia su questo uomo, prima che sindaco, che è Mimmo Lucano. È un libro che parte da una volontà di raccontare, di narrare un'esperienza importante, un'esperienza non unica, ma che sicuramente rappresenta un modello virtuoso, possiamo così dire, di accoglienza. Tra l'altro Tiziana è anche una conterranea di Mimmo Lucano, è nata a Reggio Calabria. E quindi partirei subito con la prima domanda, anche un po' per rompere il ghiaccio, perché hai scelto di raccontare l'esperienza di Riace e perché hai scelto anche di condividere con Mimmo Lucano grandi giornate, pomeriggi, e di conoscere anche Mimmo Lucano uomo. Intanto ciao, grazie. Più che condividere, di inseguire Mimmo Lucano, perché la caratteristica principale di Mimmo Lucano è questa, di non voler restare al centro dell'attenzione. Suo malgrado invece, da 15 anni almeno, è sempre, perennemente, al centro dell'attenzione. Parentesi di sincerità, non è stata una mia idea quella di scrivere questo libro, non me lo sarei mai sognato io probabilmente, di raccontare la vita. È una biografia, come correttamente dici tu, è una biografia politica. Quando Fandango, perché è stata un'idea di Fandango, mi ha chiesto di scrivere questo libro, io mi sono anche un po' preoccupata, conoscendo il sindaco Lucano, essendo io di Reggio Calabria, e conoscendo il suo modo di reagire, diciamo, a chi gli propone di raccontarlo in qualche modo. Poi però ci ho preso gusto, quando lui ha accettato questa sfida, chiamiamola, di una biografia politica, e l'ha accettata per un motivo principale, che era appunto una biografia politica, che lo racconto per quello che è. Un uomo che attua una visione politica è un'esperienza politica, quindi non le gesta di un grande uomo che umanamente è buono e quindi fa del bene agli altri. Per me Piano Piano è diventato un libro contro la rimozione. Riace è una storia universale, una storia di tutti, è un piccolo borgo. Nel momento proprio dell'apice conta 1800 abitanti e sono di 26 nazionalità, questo ti dà la dimensione del paese appunto. Per me, in quanto cittadina del sud, di quel pezzo di mondo, è stato un libro contro la rimozione mia, e quindi raccontarlo soprattutto dalle mie parti, è un libro contro la rimozione. Da noi non abbiamo, diciamo, grande dimestichezza con le nostre storie rivoluzionarie e con il senso del possibile, per cui Mimo in realtà è vivo, è vegeto, l'esperienza di Riace pure, e quindi questa per me è una grande opportunità appunto contro la rimozione. Sicuramente ci sarà tempo nelle prossime anche domande di interagire e di capire effettivamente cosa rappresenta il modello Riace e quali sono poi anche le azioni concrete che mette in campo Domenico Luccano. Partirei però appunto da questa figura comunque politica che si conosce poco, ma che in qualche modo ha camminato domandando come molti di noi. Infatti, anche da un punto di vista politico, Mimo scandisce un po' il tempo dei movimenti sociali, intermondialisti, globali, che si sono visti e alla quale tanti di noi hanno partecipato. Però Mimo prima, appunto dicevo, nasce come uomo, come militante politico e c'è una data in particolare, almeno che ricorre nel libro, che in qualche modo lo inserisce in quello che è, diciamo, il grande tema delle migrazioni. Tu dici il 98, lo sbarco? Esattamente. Sì, Mimo è uno come tanti. Percorrere la sua vita ti consente, come dici tu, di percorrere un pezzo di questo paese, un pezzo della storia nostra. Da qua lui ha 60 anni, tra l'altro appena compiuti. Camminando dentro la sua storia, domandando, come dici tu, attraversi i movimenti studenteschi degli anni 60 e 70, attraversi i movimenti dell'antimafia sociale, dell'alocride di quegli anni, attraversi i momenti del grande respiro internazionale, del movimento global e quelli poi delle battute d'arresto e del grande sconforto, attraversi tutto questo. Poi lui, che è una persona, appunto, prima di tutto, che ha attraversato la sua vita sempre con un grande respiro politico, si ritrova a fare come tanti di noi, a nascere lì, a crescere lì, a studiare, e poi a un certo punto a dover emigrare, ed emigra anche lui. Dalla metà degli anni 90 decide di tornare giù, riesce a tornare giù e nel 1998, che è l'anno che tu, appunto, citavi, tra l'altro il primo luglio è il ventennale di quello sbarco che segna un cambio di prospettiva in quel territorio. L'immagine è anche piuttosto romantica. Era il primo luglio, era notte, era il 98, quindi era, oddio, era venti? Sì, era venti anni fa. Arriva questo veliero, che per sbaglio arriva nelle coste di quel pezzo di Marionio, che è appunto Riace, arrivano molto lontano da quel tratto di costa nel cui nel 72 trovarono i bronzi di Riace, perché fino a quel momento quel pezzo di mondo era famoso per quello, per il ritrovamento di questi due bronzi. E quindi Mimmo, come tutti gli altri, corre in questa spiaggia dove c'è qualche centinaio di persone che sono arrivate con un veliero e che tutti cercano più o meno di capire cosa sta succedendo. Non è una novità, c'erano già stati degli sbarchi nel 98 in Calabria. La Calabria non era terra di sbarchi, lo è da pochissimi anni, però comunque già era successo che alcune barche di fortuna o un veliero come in questi casi si ritrovasse appunto a largo della costa ionica della Calabria. Lui quando arriva, è appena tornato in Calabria perché non ce la faceva più a vivere a Torino dove stava a lavorare in un laboratorio di chimica, perché Mimmo è un'insegnante che lavora nei laboratori di chimici, li vede e mi racconta quando li ho visti in quella desolazione totale che era il mio territorio, io ho visto loro, i miei nuovi concittadini. Non ha visto quello che poi è successo, ha visto delle persone. Appena le ha viste, appena ci ha parlato invece ha visto quello che erano e cioè che erano curdi, curdi di tutte le aree, in particolare in quel veliero c'erano diversi militanti del PKK e per questo motivo Mimmo entra immediatamente in una, tu fai una citazione e io ne faccio un'altra, in una connessione sentimentale con queste persone e quindi instaura quella che è soprattutto una situazione non di accoglienza ma proprio di mutualismo internazionalista secondo la condivisione di un pensiero politico. Ocalan è cittadino di Riace da diversi anni, ha ottenuto appunto la cittadinanza onoraria. Sì, un altro elemento che ricorre spesso nel libro sono questi tuoi scambi con Mimmo rispetto alla politica in generale, quindi lui è conosciuto e si è fatto conoscere in questi anni soprattutto come dicevamo per il modello d'accoglienza di Riace ma in realtà appunto il lavoro territoriale di Mimmo all'interno della sua comunità è un lavoro che va oltre al concetto stesso d'accoglienza, è un lavoro che parla di beni comuni, di attenzione al territorio, di antimafia sociale, è un lavoro che immediatamente farete con altri comuni calabresi per costruire una visione del mondo, una visione del proprio territorio, della propria terra, differente rispetto a quella della speculazione e dello sfruttamento delle risorse. Ecco io credo che questi siano altri elementi importanti proprio per poi andare ad approfondire qual è questo sistema, questo modello. Assolutamente, quando Mimmo mi dice quelli, quando li ho visti erano i miei nuovi concittadini, questo significa che erano i suoi nuovi concittadini, i suoi e di quelli che erano rimasti, cioè non sono, a volte abbiamo questo equivoco di fondo, dire l'accoglienza è un'opportunità, è una fissazione che ho, è un grande errore che facciamo strategicamente, politicamente, l'accoglienza è un atto naturale e quello che Ria ci ha fatto è stato semplicemente dare luogo a un atto naturale. Entrare in quel vortice dell'accoglienza come un'opportunità, come una risorsa per il risollevamento economico, sociale, del proprio territorio, per qualunque motivo tu vuoi, è l'altra faccia della medaglia, è l'altra faccia del pericolo, no? Devi comunque, è comunque una motivazione, una giustificazione che tu devi dare al fatto di accogliere. Il principio che muove Mimmo e il gruppo che intorno a lui c'erano in quei primi anni 2000, che lui non era sindaco, non era consigliere comunale, non era proprio niente di niente, se era candidato aveva preso, penso, due voti, manco suo padre l'aveva votato, quindi non aveva alcuna mira, diciamo così, di politica istituzionale. Quello che è successo è stato un atto naturale, c'è l'atto naturale di dire questo suolo non è mio per il solo fatto che ci sono nato, se tu arrivi ci stai con me come ci sto anch'io. Quindi questo è quello che è successo e questo comporta, diciamo, un'altra esigenza forte, che era quella che ho sentito che mi muoveva, che è quello di, anche lì, ritoccare un po' questo senso comune intorno al termine accoglienza, il modello di accoglienza. A Riace c'è un modello non di accoglienza ma di convivenza, civile, pacifica, e anche, insomma, direi estremamente positiva e che porta buoni frutti da un punto di vista poi della vita quotidiana delle persone, anche economica. Per cui il punto del modello che poi, dici tu, ne parleremo, è proprio lì. Quelli sono i suoi nuovi concittadini e nel collettivo di quella nuova comunità di cui queste persone fanno parte si è lavorato insieme. Quelle persone, quando sono arrivate, hanno sollevato le maniche per chi ce l'aveva di una camicia e insieme a lui non c'era nessun sistema d'accoglienza in questo paese. E insieme a lui hanno cominciato a mettere a posto quattro case per vedere dove poter andare a dormire. Quindi senza finanziamenti pubblici, senza nessun programma di accoglienza, senza nulla di nulla. Riace è capofila dei primissimi comuni che chiedono al paese di attrezzarsi da questo punto di vista. Si potrebbe pensare che in qualche modo abbia ricostituito un welfare locale, perché appunto giustamente parlare semplicemente di accoglienza ha, anche per come viene utilizzato questo termine, degli elementi di difficile comprensione o perlomeno non rappresenta fino in fondo quella che è l'esperienza di Riace. E quindi forse leggendo e conoscendo poi da vicino come si è sviluppato questo modello possiamo parlare di forme di welfare comunitaria o comunque di welfare che riescono a ridistribuire un po' quella ricchezza socialmente prodotta. È così o sbaglio? No, no, è così, è così, è così assolutamente. Tu considera una cosa, che ci sono due paroline vicine, no? Che è di tutti, che credo Mimmo l'abbia pronunciata almeno due o tre milioni di volte. Quello che accade in quella comunità è di tutti. L'acqua pubblica è di tutti, le case sono di tutti. Quindi in quel senso intendo accoglienza è riduttivo, è molto meglio convivenza. Quello che succede in quella comunità vale per tutti, vale per chi è rimasto, sopravvissuto direi più che rimasto, contava più o meno 500 abitanti, penso, Riace nel 98. 5-600, non di più. Adesso la metà degli abitanti del borgo è appunto di 26 nazionalità. Quindi in quel di tutti c'è il bene comune di cui tu parlavi. E quindi persone che avvicinandosi e conoscendosi hanno un'identità e assumono delle sembianze di altre persone che hanno un nome e un cognome e che condividono quel territorio. È talmente semplice quando lo dici, suona quasi banale, però in questo momento non è affatto banale. Scusate, non è assolutamente banale, evidentemente anche questo modello da fastidio, gli attacchi di Salvini nei suoi confronti in campagna elettorale, anche se poi il video è uscito dopo la campagna elettorale, rappresentano una certa idea che purtroppo sta prendendo piede nel Paese, che qualsiasi forma, anche appunto quelle innovative, virtuose, quelle che puntano a un welfare locale per tutti, siano da attaccare. Io entrerei anche un po' nel concreto, per cercare di provare a raccontare, anche a chi ci ascolta, quali sono alcune questioni significative che emergono. Innanzitutto, quante persone lavorano all'interno di questo sistema e poi quali sono gli elementi anche che hanno rappresentato una piacevole novità rispetto magari a situazioni come quelle che conosciamo noi qua, magari più nel nord-est, dove vediamo che spesso l'accoglienza non solo non è fatta dalle comunità, ma è spesso fioriera di malaffare nel quale le popolazioni locali e addirittura i sindaci si mettono davanti alle case per non solo protestare l'accoglienza ma per evitare proprio che arrivino le persone migranti richiedenti asilo. Divido in due tronconi da una parte, lo dicevamo prima non ho fatto i conti, io non lo so, calcolando in proporzione rispetto al milione di posti di lavoro di Berlusconi, quanti li abbia fatti Mimo Lucano, però considerate che nel circuito dell'accoglienza lavorano 80 persone in un paese di 1800 abitanti, 1500 per la verità più o meno, che ha un'incidenza notevole. E l'indotto, chiamiamolo così, per cui banalmente l'asilo interculturale, multiculturale che hanno aperto, le botteghe che hanno riaperto, ma il supermercato, il bar di Alessio, che saluto se ci sta ascoltando, che il bar della piazza, che è uno dei tanti emigrati da quel paese che è rientrato con la sua famiglia e vive nuovamente nel suo paese, supera abbondantemente le 100 persone, che in quel contesto numerico in termini assoluti è moltissimo. In termini relativi è ancora di più, se consideriamo dove è collocato quel contesto. Quindi da una parte c'è sicuramente un'attività che è rinata, un paese che Adacolau l'ha chiamata una sorta di rinascita di un paese, di un popolo per la verità. E quindi tu da una parte hai questo, questa vita che ricomincia a percorrere questo paese. Dall'altra parte hai l'assedio, l'assedio a cui Mimmo Lucano e Riace erano abituati, da un punto di vista territoriale. Le cose di cui tu dicevi, entriamo nel merito, ne prendo una che è la meno, diciamo così, romantica e meno bella, però forse più sostanziale, che lo stop al consumo del suolo. Nessun muro, neanche di tre metri, nessuna casa è stata alzata, cioè nessun fabbricato è stato costruito in quel territorio per dare ospitalità a chi arriva, ma l'Iborgo è stato riqualificato. Le case vuote degli emigranti degli anni 50 di Riace sono state cedute, incomodato d'uso ventennale o addirittura indeterminato alla cooperativa o a chi gestisce comunque questi progetti e quindi è stato riqualificato un intero borgo, in questo modo, perché quando tu in un piccolo borgo riqualifichi le case e le rendi nuovamente agibili, riqualifichi non solo il palazzo, ma la vita intera di quel borgo. E questa cosa, in un territorio in cui la criminalità organizzata ha, tra le sue prevalenti attività, il cosiddetto movimento terra, diciamo che un problemino glielo dai e quindi hai tanti problemi che Mimmo ha avuto in quanto faccia di questa trasformazione, spari di qua, spari di là, cani avvelenati e varie minacce a destra manca, a tutto questo, a cui lui mi dice sai a un certo punto ti sei pure abituato, perché è chiaro che se io sono in Calabria e faccio questa cosa poi me la cerco, tra virgolette, poi da qualche anno però questo fuoco si è incrociato con un altro fuoco, che è il fuoco, diciamo così, dei nemici di quell'esperienza, ma non per quello che fa, ma per quello che rappresenta. È evidente che il movimento economico che può muovere Riace non crea nessun problema né all'Andrangheta, né allo Stato, né all'Unione Europea, ma è la valenza simbolica che quel territorio assunto in questi vent'anni ne ha, ne ha e come. Oggi chi colpisce Riace, e lo ha fatto sui giornali, su Il Giornale per la Precisione, colpisce un modo di fare accoglienza, che è quella che noi volgarmente chiamiamo dal basso, cioè l'accoglienza gestita da una comunità e non da committenti privati che gestiscono grandi spazi privati che creano profitto a privati. Ecco, l'accoglienza comunitaria, più che diffusa, chiamiamola così, che si fa in territori come Riace, oggi è assolutamente un problema per le politiche migratorie di questo continente, più che di questo paese. Sì, in particolare ricordiamo anche alcune vicissitudini che in questo momento sta vivendo Riace. La prima, anche perché credo che non se ne parli poi molto, purtroppo, cioè in qualche modo, grazie sicuramente a chi conosce l'esperienza di Riace, c'è stata una presa di posizione, ci sono state degli appelli, delle petizioni, però poi, cioè, in qualche modo manca anche un racconto di quello che sta venendo. La prima è la questione economica, no? Riace, prima mi raccontavi, è ormai da due anni che non riceve dei soldi. Riace non riceve da due anni i finanziamenti relativi all'accoglienza straordinaria, quindi a quelli che chiamiamo Cass, da un anno quelli relativi all'ISPRAR. Il meccanismo di autonomia economico-finanziaria che hanno messo in piedi con questi bonus, che sono monete sostitutive delle monete che hanno permesso dal 2011 in poi al Paese di non accedere ai prestiti bancari, cosa che fanno il 100% di chi gestisce i progetti, il 100% tranne Riace, che lo fa in modo totale, gli altri lo fanno in modo parziale, qualcuno. Quel sistema non funziona più, quel sistema si rompe, perché banalmente dopo nove mesi, 10 mesi, 11 mesi, poi tu i creditori li devi pagare, quindi sconfini da quella comunità che è autonoma da un punto di vista economico. E quindi anche questi bonus, che sono queste monete che delicatamente Mimmo ha stampato, ha battuto tra mille virgolette, perché altrimenti non ha fatto mica questo, sarebbe illegale, ma questi bonus hanno il valore simbolico potente di personaggi scelti che sono alcune vittime dell'andrangheta dei territori, diciamo così, confinanti, però c'è anche Sacco e Vanzetti, c'è anche Peppino Impastato, che sono appunto i riferimenti politici di quella comunità. E poi è il valore pratico, i beneficiari in quel Paese possono utilizzare direttamente l'oro e prendere confidenza e imparare un meccanismo di compravendita che in alternativa non fanno. L'esempio delle buste, gli operatori che non sono formati, ma non a Riace, in Italia, non sono formati per fare questo loro lavoro, portano queste buste della spesa ai beneficiari che non gli manca una gamba, non gli manca la parola, se fanno un corso di lingua possono pure andare a farsi la spesa da soli. E quindi è decidere loro cosa mangiare, è decidere loro cosa comprare. Per cui, ecco, torniamo a quell'idea distorta, anzi non l'idea, a quel senso distorto che abbiamo dato alla parola accoglienza, che è quella dell'alto e il basso, no? Io ti accolgo, cioè io ti do la possibilità di essere accolto. E a quello invece della convivenza, che è quello di aprire le porte e dire stai. Sì, nel libro lui se la prende spesso con la burocrazia, no? Anche giustamente, visto che comunque gestire dei progetti d'accoglienza è complicato non solamente per, diciamo, il clima di questo paese, ma poi anche perché ci si interfaccia con delle istituzioni centrali che difficilmente cercano di adeguarsi a quelle che sono poi le realtà locali. Ecco, su questo c'è aperto un contenzioso. E' uno dei motivi per cui, tra l'altro, lui in questo momento non può allontanarsi anche da Riace, è questo. Non so se ci puoi anche spiegare cosa sta avvenendo. Assolutamente. Guarda, rispetto alla burocrazia, da una parte c'è una nota fortemente ideale e politica che Mimmo è un libertario, non l'abbiamo detto finora, però Mimmo è un libertario. Purtroppo è per fortuna. Purtroppo perché questo implica solitudine, molto spesso, nelle attività collettive che tu fai. Per fortuna perché altrimenti, secondo me, Riace non sarebbe arrivato a vent'anni. E poi però c'è un problema, invece, relativo alla burocrazia che non riguarda solo Riace, che riguarda tutti. Che è il doppio, come dire, la doppia morale. Tutti, più o meno tutti, i comuni o le cooperative che gestiscono progetti di accoglienza al sud, dal 2011, dall'emergenza Nordafrica in poi, ricevono le telefonate a qualunque ora del giorno e della notte. E quindi abbattimento totale della burocrazia in cui la prefettura, quindi il ministero dell'interno attraverso la prefettura, alza il telefono e ti dice, c'ho 50 persone, 100 persone, te le mando? Mimmo ha sempre detto sì, a qualunque ora del giorno e della notte. E mentre questo pullman dal porto di Reggio Calabria arrivava a Riace, che comunque sono sempre quelle due ore, due ore e mezza di macchina, mettevano in piedi le case e tutto quello che occorreva per accogliere queste persone al loro arrivo. E quindi c'è un, che è quello che lamenta, più che lamenta, che denuncia, forse Mimmo è stato l'unico a denunciare questa cosa pubblicamente. Quindi c'è un abbattimento totale della burocrazia quando c'è da riversare pacchi e non persone dentro le comunità che fanno accoglienza e poi a un certo punto improvvisamente sono andati a bussare alla porta a chiedere conto dei cavilli burocratici che non avevano rispettato, anche in quei momenti di grande velocizzazione imposta dalla prefettura, tra l'altro. Oggi Mimmo ha ricevuto un avviso di garanzia, l'ha ricevuto nei primissimi giorni di ottobre, 50 finanzieri hanno fatto eruzione nel borgo, e sono tanti, hanno fatto diverse perquisizioni, gli hanno consegnato un avviso di garanzia, abuso d'ufficio, concussione e truffa aggravata sono i capi di imputazione, le indagini sono ancora aperte alla procura di Locri. La procura di Locri ha chiesto anche un rinvio, dopo non aver proceduto appunto al rinvio a giudizio, e quindi adesso aspettiamo che la procura di Locri si esprima, diciamo, rispetto a questa cosa qua. Tutto sicuramente nella ricostruzione che Mimmo ha fatto, anche nelle sue contradduzioni, rispetto a una ispezione della prefettura, e quindi a un verbale di questo ispettore prefettizio, che è l'inizio di tutto. Cioè, un bel giorno arriva un ispettore, fa un'ispezione, e per la prima volta in 20 anni, in 15 anni, riace a una relazione negativa. Una relazione negativa che mette in evidenza appunto il non rispetto della burocrazia, e buona parte di questo riguarda cose che fanno veramente sorridere, tipo il fatto che la gente non paga la carta d'identità e quella sarebbe un danno alle casse dello Stato, per esempio, e poi invece allusioni, perché io l'ho letta, la può leggere chiunque, è stata pubblicata dappertutto, in quella relazione ci sono delle allusioni, per non dire illazioni, rispetto a quel modello, e in particolare a quella persona. Una di queste, che è la più tremenda da digerire per lui in particolare, è quella di questa accusa velata di parentopoli. Mimmo è una persona che ha fatto della sua vita un principio che è il privato e politico, che ha reso pubblica la sua vita anche privata, e che ha rinunciato a una serenità familiare per andare avanti in questo processo politico. Quindi attaccarlo su questo è veramente come non attaccarlo, per cui è stato anche abbastanza facile e immediato fare quello che dici tu, petizioni, prendere posizione, l'accusa era talmente grossa che alla fine era quasi inesistente. Sì, ma questo ci fa anche capire che queste realtà che riescono a produrre proprio un'alternativa, perché qua è evidente che non stiamo parlando semplicemente di una buona esperienza, ma proprio anche di un'idea alternativa, che ha anche nell'elemento della replicabilità la possibilità poi di espandersi anche in altri territori, in qualche modo fanno paura, perché agiscono attraverso anche una volontà di autonomia decisionale. Ti chiedo, visto che a breve sarai impegnata per un'iniziativa proprio a Riace, se non sbaglio il 4 agosto, con le giornate del Festival di Riace, e ti chiedo in questo momento quali sono poi i comuni della costa ionica che stanno un po' prendendo stimoli, spunto, ma che in questi anni hanno anche costruito delle iniziative molto simili a Riace. Guarda, ce ne sono diversi e microscopici, ma ce ne sono anche dall'altra parte, che secondo me sono quelli più interessanti. Penso al comune di Cinque Frondi, che sta dall'altra parte della Calabria sulla Piana di Gioia Tauro, e che ha una valenza ancora più importante, e ce l'ha, perché se tu prendi la macchina, anche perché è l'unico modo che hai per farlo, se tu prendi la macchina dalla costa ionica, e quindi da Riace, attraverso i tagli della Calabria in due, oltre a un panorama mozzafiato che hai tagliando appunto dentro questa regione, arrivi nella Piana di Gioia Tauro, arrivi alla Paracopoli di San Ferdinando, arrivi a Rosarno, arrivi in quel pezzo lì, che sappiamo tutti benissimo che cosa vuol dire, perché penso che di quelli che siamo qua, almeno una volta, non l'abbiamo letto, siamo proprio andati a vedere cosa stava succedendo. E quindi il fatto che ci siano dei comuni che sono vicinissimi, ma su quella sponda là, che hanno adottato l'idea del modello Riace, secondo me ha una valenza veramente importante, oltre al fatto che l'hanno fatto anche altri comuni, penso alla Val di Susa, o penso ad altri, al Friuli, e penso ad altre realtà, che grazie a Regosol, che è la rete dei comuni solidali, che tiene dentro appunto Riace, che l'ha sostenuta moltissimo in tutti questi anni, ha fatto da megafono rispetto alle opportunità che quell'idea crea, ai piccoli amministratori. Quindi, diciamo, quello che si muove è questo, qual è lo stallo? Lo stallo è che, prendiamo l'esempio dei bonus della moneta che ti rende autonomo, è vero che è stato usato in moltissimi posti, penso a Gioiosa Ionica, dove c'è un sindaco giovanissimo, direi io, ma non è giovanissimo, più è giovane, semplicemente giovane, che è appena stato rieletto un paio di settimane fa, è parziale l'utilizzo di questi bonus, è parziale, quindi c'è un espandersi di quel modello, ma il modo radicale e totalizzante in cui lo fa Riace, al momento lo pratica soltanto Riace. E perché è importante? Non per una questione di principio, ma perché in quella quota delle famose 35 euro, quelle famosissime 35 euro, che noi siamo stati bravissimi come controinformazione, a dire che dentro quelle 35 euro c'è tanto altro, però poi c'è anche altro ancora, cioè dentro quelle 35 euro c'è la struttura che ospita e il lavoro delle persone che lavorano dentro la struttura che ospita, c'è un bonus di pochi euro, ovviamente non di 35 euro al giorno, per le persone che hanno appunto l'assegno da beneficiari, però poi c'è un altro pezzetto che nessuno dice, e l'altro pezzetto è appunto, a parte l'arricchimento di chi ha gli alberghi o compra villoni e poi li affitta, perché a quel prezzo lo farei anch'io avendoci i soldi, però poi c'è il grande punto e c'è le banche, che hanno una sistematica e strutturata entrata rispetto al flusso dei finanziamenti pubblici che entrano in Italia appunto dall'Europa. in quel ritardo di un anno, se tutto va bene, di arrivo di questi finanziamenti, cosa succede? Succede che tu per comprare il latte, pagare la bolletta della luce, pagare l'affitto se sei da un privato, hai bisogno comunque della cassa, hai bisogno dei liquidi. Per fare questo le banche si sono attrezzate, si è attrezzata anche banca etica che Mimo nel libro mi spiega persino banca etica, perché ti chiami banca etica se applichi il tasso di interesse? Lui davanti a questa opportunità che tutti gli hanno detto beh i ritardi ce li hanno tutti, chiedi il prestito e funziona così. E lui ha detto ma questi soldi non sono miei, questi soldi sono dei rifugiati, io perché devo pagare i tassi di interesse alle banche? Quindi diciamo in questa forma di risparmio, con questi 35 euro oggi, Mimmo Lucano, invece di fare accoglienza per uno, fa accoglienza per tre. E questa diciamo è la causa principale che lui ritiene sia il motivo principale per cui lo stanno indagando. Sì, un concetto che emerge spesso nel libro ma che lo dice lui stesso più volte e che tu riprendi è quello dell'utopia della normalità. Tra l'altro il libro verrà tradotto anche in spagnolo e questo sarà il titolo dell'edizione spagnola. Così Mimica Patosta nella premessa scritta da Mimmo, emblematica anche dell'uomo Lucano. Dice, confesso di non amare molto questo titolo, Mimica Patosta. Cioè proprio te l'ha detto direttamente. Ecco, ma torniamo un attimo sul discorso dell'utopia della normalità. Cos'è per lui questa utopia fino in fondo? Cioè è il modello o essere riuscito a rimanere nel suo territorio senza dover andarsene come molti suoi concittadini hanno fatto? Forse nessuna delle due. Per Mimmo l'idea che un essere umano possa vivere senza sfruttare un altro essere umano, quello è il suo ideale, diciamo. Quello è quello che lui chiama utopia. Quando la chiama della normalità è perché quando lui ti dice sai, alla fine se ci pensi è la cosa più normale del mondo. Ecco, l'utopia della normalità è quello. Se vai a Riace e stai qualche giorno ti accorgi che è davvero così. tutti questi discorsi che stiamo facendo a Riace non li fai, non li fa nessuno. Si siedono al tavolo e giocano a 3-7. Alla fine è quello il momento, diciamo, collettivo. E quindi l'utopia della normalità per Mimmo rappresenta questo. Rappresenta la teoria e l'azione che non si dissociano mai. E quindi non è il teorizzare un'utopia oppure renderla speciale. ecco, quella sarebbe la grande scoffitta per questa esperienza che ha fatto lui e che hanno fatto moltissime persone. Gli abitanti di Riace sono veramente milioni di persone e vivono in tutto il mondo perché il sostegno che arriva a quel piccolo fazzoletto di terra da ogni parte del mondo è enorme. Il numero di persone che vanno a fare il turismo sostenibile è enorme. E per lui e per i Riace quelli sono cittadini di Riace, pure loro. ognuno a modo suo partecipa, diciamo, a questa esperienza. Questa è l'utopia della normalità riuscire a vivere, diciamo, in maniera normale senza avere quello che lui mi ha spesso detto ci ho impiegato pure un po' a capirlo questo concetto la sindrome del fastidio degli esseri umani. Ecco, lui dice io non provo nessun fastidio quando incontro un altro essere umano qualunque forma lui abbia non mi provoca fastidio. Dice, non è paura, è ancora prima è ancora più a fondo, è fastidio. Io quel fastidio non ce l'ho e il fatto che i Riacesi questo fastidio non ce l'abbiano probabilmente è la realizzazione di quest'utopia, appunto, della normalità. Ti ringrazio. Chiuderei con un aneddoto anche un po' simpatico, no? Credo che ne hai potuti raccogliere molti e non solo su Mimbo ma anche poi sulle persone che vivono oggi a Riace e che hanno anche deciso di tornare dopo magari essere andati in qualche altro paese europeo hanno deciso di ritornare là perché in fondo là stavano bene. Beh, sì sì, assolutamente sì un aneddoto vuoi? Io in questo momento ne ho 10.000 e non mi ricordo quale posso dire e quale no perché alcuni li puoi dire e alcuni non li puoi dire ne puoi dire uno che è anche citato nel libro però se no, ma io ne dico uno invece che non c'è nel libro perché siccome il mio Mologano è il mio maestro allora non bisogna avere nessun freno e nessuna remora una volta che la cosa l'hai detta quella cosa è diventata pubblica però per darvi la dimensione e non è una battuta cioè poi io ho riso come una pazza quando mi ha raccontato questa cosa però lui l'ha fatto per davvero c'è un anziano professore del paese che spesso va a trovarlo in comune per raccontare molte cose e quindi si intrattiene per molte ore diciamo a raccontare delle sue cose e quindi un giorno lui aveva un sacco di cose da fare a parte che non c'è mai dentro la stanza perché devi andare a rincorrerlo in paese e quindi ha detto sai è venuto il professore e mi ha cominciato a raccontarmi delle cose io dovevo fare delle cose però non potevo mandarlo via perché ho capito io sono il sindaco però non è che quella è casa ma pure fosse casa mia allora lui si è alzato mentre il professore raccontava i suoi fatti da più di 40 minuti già si è alzato e gli ha detto guardi professore io ho da fare lei resti pure qua se ne è andato e lo ha lasciato nella stanza del sindaco e il professore è rimasto lì fino alla sera questo ti dà la dimensione di come veramente quest'uomo sappia di essere transitorio di passaggio in quel ruolo e per questo apprezzo quello che hai detto tu all'inizio non è un sindaco Mimmo è transitorio il fatto che sia un sindaco eppure piuttosto fortuito e casuale io questa cosa di Riace l'ho chiamato una contraddizione in termini perché fare sindaco libertario provoca tutto quello che ha provocato Riace e per fortuna che l'ha provocato ti ringrazio Tiziana grazie a te penso che hai attraverso le tue tante parole proprio raffigurato quale sia oggi l'esperienza di un modello che però vuole essere sia modello perché si sente in fondo all'avanguardia ma in qualche modo vuole essere considerato qualcosa di molto normale e chiudiamo questa trasmissione con una canzone scelta proprio da Tiziana Carmine Torchia Cos'è che vi devo quant'è il disturbo per salvare me che io ho il mare dentro all'iride ho visto ed è impossibile descrivervelo bene perché tutto vi appartiene grazie a tutti